Tutto il mondo in apprezzione, stasera parliamo del coronavirus proveniente dalla Cina con il professore virologo che è tornato a trovarci, Roberto Burioni e in collegamento avremo il ministro della salute, Roberto Speranza Io ritengo che in questo momento in Italia il rischio di contrarre questo virus è zero Cioè in Italia il rischio secondo me è zero? Perché? Perché il virus non circola No, scusami, c'è un sacco di gente con le mascherine in giro No, sarà per l'inquinamento Ma che me stai a coglionare? In questo momento no, però, attenzione cioè, non è che questo avviene per caso, avviene perché si stanno prendendo delle precauzioni Ma rifaccia il mio cibo! Perché vengono chiude, signor ministro, le grandi aziende in Cina? Perché c'è questa chiusura totale, questa specie di day after che vediamo in televisione? Perché non fanno come noi? Ma credo che siano scelte che fanno queste grandi multinazionali Oh, ma c'è stata una piappia il culo questi Grazie